Ingredienti Dosi per 4 persone 500 grammi di melanzane 500 grammi di pomodori pelati 5 cucchiai di riso 50 grammi di burro Olio Mezza cipolla Basilico Prezzemolo 1 spicchio d'aglio Origano Pane grattugiato Tee e sale Preparazione Tagliare a metà le melanzane e svuotarle con un cucchiaino Fare un sugo con olio Basilico Prezzemolo Aglio Cipolla e la polpa delle melanzane Unire il riso lessato al dente e riempire con il composto le melanzane Cospargerle di pangrattato Burro fuso e origano Cuocere al forno per un'ora Il piatto è pronto Buon appetito Duevo Bello Di Sul Pane Pin